E passiamo allo sport. Palla nuoto è iniziata ieri alle 19 allo stadio del nuoto Il Cammino della SNC verso la stagione 2013-2014. Giocatori e tecnico si sono infatti trovati al Palagalli dove prima hanno cominciato con un'ora di corsa e ginnastica sotto la guida del preparatore atletico Fabio Desiati e poi si sono tuffati in piscina gli ordini di coach Marco Pagliarini. Le interviste di Alessio Alessi. Sentiamo. Questa sera parte la preparazione non solo atletica fuori dalla vasca come abbiamo già detto con Fabio Desiati ma anche quella in piscina con te. Durerà fino all'inizio del campionato? Ci vuoi spiegare un attimo come funziona, come sarà strutturata? Adesso è soltanto di nuovo un avvicinamento un po' all'attività in generale anche perché non sappiamo quanti di loro effettivamente in questo periodo hanno lavorato quanti magari hanno fatto altre attività ma comunque sono tenuti un po' in condizioni quindi iniziamo in modo blando è anche un modo per rivederli, per vedere le condizioni. Questi primi giorni faremo tutti insieme quindi il gruppo Junior S, Serie B e Serie A e poi inizieremo un po' a lavorare in maniera suddivisa. Poi piano piano insomma andiamo un po' a lavorare a migliorare la parte della palestra o a aumentare i carichi e a programmare quella che poi sarà effettivamente il nostro lavoro. Ancora diciamo questa fase qui e questi giorni qua sono quasi di avvicinamento, di tranquillità per rivederci insomma. Oggi inizia questa preparazione, quanto durerà, come si svolgerà in gruppi di allenamento? Allora mi sono fatto due conti prima di cominciare il campionato, ho visto che mediamente abbiamo circa 16 settimane all'inizio del campionato che suddivise in un'ora e mezza di allenamento circa tre volte a settimana sono circa 64 ore di allenamento. quindi la preparazione atletica 64 ore in tre mesi e mezzo diciamo sono proprio limitate ecco però loro faranno sicuramente anche molto attività di nuoto e riusciranno a arrivare in forma per l'inizio del campionato. La preparazione atletica noi la cominciamo questa sera e questa sera ancora sarà in forma molto diciamo generica e poi via via cercherò di individualizzare i percorsi perché attraverso l'uso di alcune strumentazioni che mi consentono di poter monitorare la loro forza, resistenza, capacità aerobica cercherò di individualizzare gli allenamenti in funzione dei ruoli. Calcia 5 è la seconda giornata del campionato di serie C1 di Calcia 5 e va in scena in anticipo per l'atletico Civitavecchia che tra le muramiche del campo in erba sintetica di San Liborio incontra domani alle 21 la formazione dell'Albano. Domani alle 12 presso la sede del PSI di Viale dei Gasperi 30C verrà presentato il campionato italiano di pesca in Apnea 2013. Si tratta di un evento di portata nazionale patrocinato dal comune di Civitavecchia e dal CONI. Nonostante l'estate sia vicina alla fine continuano i tornei e le attività sportive organizzate dall'ASD Beach Volley presso il Beach Arena di Largo Gale. Questo weekend si terrà infatti un torneo di beach tennis giallo per le categorie maschile, femminile e misto. Grande festa di apertura nella stagione 2013-2014. Oggi pomeriggio al campo di Ianne di San Gordiano la Leocon di patron Stefano Ambrosi ha infatti ospitato l'ex grande portiere della Juventus e della nazionale Stefano Tacconi che si è presentato al bagno di folla e al tir incrociato dei bambini della Juventus Academy di Civitavecchia. I particolari in queste interviste realizzate a Stefano Tacconi. Sentiamo. Un campione tra i piccoli campioni del San Gordiano. Allora come vive oggi la giornata Stefano Tacconi insieme a questi ragazzi adoranti e ai loro genitori che in particolar modo in questi giorni l'hanno attesa tanto? Intanto sono venuto perché il Juventus Club mi ha dato questa possibilità e siccome è una scuola di calcio Juventus chi poteva venire se non uno che ha vinto tutto con la Juve ne sono fiero, sono contento poi quando i bambini crescono e cercano di immedesimarsi a un campione anche con un po' di testa perché oggi imitare Balotelli per fare un nome non è che sia un buon esempio. Lei si è sempre distinto non solo per il calcio ma anche per il fair play e anche per essere stato un signore del calcio quindi forse anche questo è il ricordo che ha lasciato e che magari sarebbe bene che qualche giovane prendesse. Non dico di prendere tutto, tutto perché anche io avevo un po' di pazienti da portiere però rispetto dell'avversario, rispetto delle persone, rispetto di chi fa questo mestiere è giusto che sai benissimo che ti guardano i bambini, i giovani, devi stare attento a quello che fai. Dicono tutti che a livello giovanile mancano i portieri. Non manca la scuola, i portieri ci possono anche essere perché puoi trovare in mezzo alla strada. Io voglio fare il portiere, poi insomma le caratteristiche, la testa, la concentrazione, la pericolatezza, la personalità ogni ruolo ha il suo tipo di gioco. Zoffo mi diceva sempre io non ti devo insegnare niente, ti devo solo allenare perché sapeva benissimo che lui non ascoltava nessuno, pensate se ascoltavo lui e allora credo che ognuno ha il suo tipo di bagaglio e va allenato e va insegnato le cose basidane, le cose semplici che oggi vedi che nessuno gli ha insegnato e fanno degli errori veramente inguardabili. Quando si comincia un'avventura c'è sempre il sogno di un bambino come l'ho avuto io da piccolo di andare in una grande squadra, di vincere la Coppa del mondo e ci sono riuscito però con sacrifici, con lavoro, rispetto degli avversari, rispetto delle famiglie e rispetto a tutti. È un lungo cammino che uno deve fare, lo deve fare con attenzione e sacrificio perché se no è sempre tutto facile, il sogno si lo sogni ma poi va aiutato. Credo che come giovani, sperando che adesso Viviano stia facendo l'esperienza all'estero, Viviano e Agazzi, perché credo che Marchetti e Sirico abbiano già una certa età e ormai la nazionale può essere sfuggita, però possono insegnare tanto. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie.